Occuparsi di ADHD è un dovere per i genitori, per gli insegnanti, per i medici e per i psicologi. Porre al centro dell'attenzione sociale la salute mentale in età evolutiva è fondamentale per dare l'opportunità ai nostri bambini e ai bambini ADHD di essere felici e saluti. Devo all'AIFA, l'associazione per le famiglie dei bambini ADHD, le mie competenze e l'opportunità di svolgere un evento molto importante che si terrà qui a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale il 7 e l'8 aprile e che vedrà impegnati professionisti locali, regionali, nazionali e anche internazionali. Grazie a tutti!